Parola a lei con questo chiarimento. Ringrazio i colleghi che interverranno dopo. Grazie Presidente, anche io ringrazio i colleghi per farmi intervenire prima. Partiamo da un dato. Il dato è che il 94% dei comuni italiani è a rischio di dissesto idrogeologico e Ispra ci dice che sono 8 milioni gli italiani che vivono in aree ad alta pericolosità. Questi dati così preoccupanti è chiaro che indicano che ci troveremo certamente a gestire delle nuove emergenze. Questa non è un'ipotesi, è una certezza se il 94% dei nostri comuni sono a rischio idrogeologico. E allora la politica attenta alle necessità dei cittadini cosa dovrebbe fare? La politica attenta dovrebbe lavorare per prevenire un'ennesima tragedia e mettere in atto tutti gli strumenti che abbiamo per la prevenzione. Eppure noi in questi anni abbiamo deciso di affidarci all'economia dell'emergenza perché forse è più proficua e non all'economia della cura e della prevenzione. E perché dico questo, Presidente? Perché noi avevamo degli strumenti a disposizione che ci avrebbero permesso di mitigare il rischio idrogeologico. Uno di questi strumenti era, ad esempio, la cartografia geologica. Uno strumento fondamentale perché ci permette di avere una fotografia precisa di quale è il rischio idrogeologico su tutte le aree del territorio nazionale. Sono decenni che questo Paese aspetta il completamento della cartografia geologica. E ancora una volta, gli unici governi ad aver investito per riprendere nel progetto di completamento della cartografia geologica sono stati i governi Conte. Abbiamo investito 25 milioni di euro, ma non sono sufficienti, ne servono 200. E io voglio ricordare che nella scorsa legge di bilancio, in quella fatta durante il governo Draghi, io ero allora la capogruppo del Movimento 5 Stelle, noi abbiamo provato a sollecitare tutte le altre forze politiche ad utilizzare parte dei fondi stanziati per la legge di bilancio per la cartografia geologica. Sa qual è stato il risultato, Presidente? Che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato 6 milioni di euro dal proprio budget, da quel budget che era affidato ai singoli gruppi per la legge di bilancio, perché non abbiamo trovato nessuna altra forza politica che con noi volesse condividere la necessità di investire sulla cartografia. Io per questo grandissimo lavoro che abbiamo fatto voglio ringraziare i nostri geologi, quelli che erano con noi qui in quest'Aula nella scorsa legislatura, il nostro compianto Franco Ortolani, il senatore Quarto, il senatore Coltorti, che per cinque anni da geologi si sono sgolati a dire quanto fosse necessario completare la cartografia geologica. Ma purtroppo questo strumento ancora non è a disposizione del Paese. Quali sono gli altri strumenti che possiamo utilizzare per la prevenzione? Intanto dobbiamo dotare i nostri comuni dei piani regolatori. Gran parte dei comuni italiani sono sprovvisti ancora oggi nonostante tutte le tragedie di piani regolatori. Dobbiamo contrastare l'abusivismo edilizio, ma non solo con proclami, con i fatti. Io ricordo che anche su questo, nella scorsa legislatura, nella delega fiscale abbiamo fatto alla Camera un lavoro lungo mesi e in quella delega fiscale c'era anche un primo passo verso il contrasto all'abusivismo edilizio che era la digitalizzazione del catastro. Ma su quello il centrodestra ha alzato le barricate additando la maggioranza a voler mettere tasse sulla casa quando non era assolutamente quello il punto. Il punto era facciamo una mappatura di tutti gli immobili fantasmi che esistono sul nostro Paese, di tutti gli immobili abusivi e dove bisogna intervenire abbiamo finalmente il coraggio di intervenire e non affidando ai sindaci la demolizione, ma serve un ente terzo perché i sindaci non possono essere coloro che devono abolire le case abusive. Sono troppo coinvolti anche emotivamente in queste situazioni. E quindi poiché non abbiamo fatto prevenzione, poiché non abbiamo utilizzato gli strumenti che avevamo a disposizione, ci siamo trovati ad affrontare un'ennesima tragedia, un'ennesima tragedia purtroppo annunciata perché il 26 novembre alle 5 di mattina dal Monte Pomeo si è staccata una frana che ha inghiottito decine di case del comune di Casa Micciola e ha inghiottito e cancellato anche un piazzale che era dedicato ad Anna De Felice. Anna De Felice è la quindicenne che è morta ad Ischia proprio in seguita a una frana nel 2009. Quindi dal 2009 nulla è cambiato e si è ripetuta esattamente la stessa tragedia con numeri ancora più gravi perché sono centinaia gli sfollati, dodici i morti, la macchina di gestione dell'emergenza si è subito messa in campo, tutti i cittadini schitani, campani, tutti i volontari si sono mobilitati scavando a mani nude nel fango per giorni e i sindaci di Ischia hanno fatto un appello al governo, hanno fatto un appello al governo a stanziare fondi. Secondo la stima dei sindaci servono 400 milioni di euro in un anno non solo per ripristinare lo stato delle cose ma anche per mettere in sicurezza quel territorio e invece noi oggi ci troviamo a discutere un decreto che stanzia appena un decimo di quelle risorse, solo 40 milioni di euro tra l'altro spalmati in quattro anni, quindi 10 milioni all'anno che come dicono i sindaci e noi condividiamo questa preoccupazione non saranno sufficienti neppure per ripulire dal fango le strade e le case. E allora come sempre, Presidente, noi abbiamo provato a lavorare da opposizione in maniera costruttiva proponendo degli emendamenti che avevano un unico scopo, quello di alleggerire il carico per le imprese del posto e per le famiglie. Avevamo chiesto di cancellare imposte come l'Atari, di sospendere le tasse universitarie, di sospendere le rate dei mutui, di aiutare i comuni permettendo l'assunzione di personale aggiuntivo. Ma come sempre questa maggioranza purtroppo dice di voler collaborare con le opposizioni e continua a dare, a bocciare, a dare solo pareri negativi e a bocciare tutte le nostre proposte. Evidentemente questa maggioranza spera solo nella resilienza della popolazione ischitana che io sono convinta ci sarà anche questa volta. Come quella popolazione si è rialzata dopo la frana del 2009, dopo il terremoto del 2017, si rialzerà anche dopo questa ennesima frana. Ma non possiamo continuare a dire ai cittadini che tutto sommato devono essere bravi a cavarsela da soli. Perché poi non bisogna meravigliarsi se alle elezioni politiche il 40% dei cittadini non crede più che le cose possano cambiare e decide di non andare a votare. Ma al di là di questo provvedimento sul quale chiaramente il Movimento 5 Stelle si asterrà, a noi preoccupa quella che è la visione di questo Governo sul contrasto al dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché in legge di bilancio, Presidente, sono state tagliate il 40% delle risorse che erano destinate al dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché questo Governo ha deciso di riprendere, a trivellare i nostri fondali e sappiamo quanto questo sia pericoloso proprio per il dissesto idrogeologico. Ci preoccupa perché dal programma di questo Governo è stata totalmente cancellata la transizione ecologica che invece era uno dei pilastri su cui abbiamo costruito il PNRR. E quindi è chiaro che per questo Governo e per questa maggioranza l'emergenza climatica non è un'emergenza reale. E' chiaro che il contrasto ai cambiamenti climatici non è l'emergenza invece più importante che deve gestire questo Paese. Evidentemente quello che non è chiaro a questa maggioranza e a questo Governo è che veramente non c'è più tempo per invertire la rotta. Veramente bisogna dire basta all'utilizzo dei combustibili fossili e anche basta a tutti quei sussidi ambientalmente dannosi, i cosiddetti SAD per i quali spendiamo ogni anno 21 miliardi di euro. Noi Presidente spendiamo 21 miliardi di euro praticamente per foraggiare, per pagare, per incentivare la nostra stessa estinzione. Questo è quello che stiamo facendo. Quando invece quelle risorse andrebbero utilizzate tutte per una transizione ecologica vera, per investire nelle rinnovabili e per mettere davvero in sicurezza questo nostro fragilissimo Paese. Grazie.